Italia-Spagna, anzi Spagna-Italia 1-0 è stata la partita emblematica di quello che credo effettivamente sia l'Italia in questa competizione che già avevo vinto da Italia-Albania nonostante le vittorie, una squadra che nel momento in cui ha di fronte una squadra più debole mette in gioco, mette in luce quelle che sono delle effimere capacità di gioco, capacità di palleggio un'idea di gioco che comunque appunto riesce a essere messo in gioco da spalletti in base agli uomini che mette in campo contro le squadre più debili, nel momento in cui incontra le squadre più forti e comunque ragazzi la Spagna non è che ci ha battuto 1-0 perché era una partita 1-0, la Spagna ci ha dominato totalmente pur in realtà essendo estremamente poco concreto anzi pessimo in fase di concretizzazione abbinata a una buona prestazione non perfetta, stupenda secondo me Donnarumma ha fatto delle parate decisive ma non straordinarie, cioè ha fatto delle parate molto buone va bene, ok sì, abbinata a una prestazione molto buona di Donnarumma il punto qual è? Che l'Italia con la Croazia secondo me andrà a vincere perché mette in campo una certa cazzimma una certa coscienza del fatto che deve vincere per passare il turno, secondo me andrà a vincere e comunque passare il turno neanche se credo basta il pareggio quello che ha accaduto ieri in Spagna-Italia 1-0 in realtà era preventivabile fino a un certo punto a me sta sul cazzo Scamac perché mi sta sul cazzo l'atteggiamento Scamac è un atteggiamento scazzato, lo si vede anche dall'espressione, lo si vede banalmente sì, dall'espressione, da come si pone, non mi piace per niente un giocatore che mi sta sul cazzo perché ha delle qualità ma è scazzato, ha qualcosa che non quadra cioè nel senso risolvete la problematica di Scamac vero è che le prime punte sono sempre, sono un ruolo molto secondo me critico sono un ruolo particolare che ha delle criticità anche per quanto riguarda la valutazione nel senso che a differenza di un interiettore di centro campo, un difensore centrale una fascia, un laterale che comunque tocca tanti palloni può in qualche modo rifarsi, ha un moto emotivo, comunque un'evoluzione emotiva anche durante la partita perché ricordiamo che il calcio è comunque testa, emozione il calcio è, io lo so perché il calcio ci gioca anche se in maniera ammatoriale da sempre il calcio non è solo una questione tecnica, è una questione anche di testa, di come ti poni di atteggiamento, di robe tue che riesci a porre nella partita è a motivazioni tue, è tutta una serie di robe è chiaro che una prima punta è un ruolo particolare secondo me quasi quanto a portiera nel senso che effettivamente tocca pochi palloni i palloni che tocca è decretato, è obbligato c'è la necessità da parte dello spettatore di, viene affibbiato il ruolo della prima punta quello di o appoggiare la palla dietro o di fare una giocata buona oppure di fare gol quindi devo dire che è vero Zapata, Scamacca sono giocatori che sono molto oggetto delle mie critiche perché effettivamente sono ruoli che... nei quali stoccono pochi palloni e quindi di conseguenza o la butti dentro quindi o sei un grande oppure sei una merda quello è vero, ma a me di Scamacca non è tanto il fatto che non ha fatto gol infatti non sto dicendo quello, sto dicendo proprio l'atteggiamento cioè vedi l'atteggiamento di Chiesa è un atteggiamento di un giocatore che vuole fare il massimo per dire Ronaldo, facciamo un esempio con Ronaldo al di là delle qualità tecniche, io parlo dell'atteggiamento Ronaldo secondo me è l'esempio del giocatore che è per se stesso dal massimo però dal massimo, in realtà paradossalmente Ronaldo non è un giocatore egoista Ronaldo non è un giocatore egoista dal massimo perché secondo me è un grandissimo fan di se stesso, della sua estetica ma per dire, l'atteggiamento di Ronaldo e l'atteggiamento di Scamacca ripeto, non c'entra il valore tecnico, parlo dell'atteggiamento sono i due estremi, Scamacca è messo sul cazzo poi Spalletti ha sbagliato clamorosamente perché comunque sapeva avrebbe fondato la Spagna, una squadra che non era Albania una squadra per la quale dovevi comunque giocarla di contropiede e cosa fai? Mi metti Scamacca e mi tieni in panchina Raspadori Raspadori, ve lo dico io, è il potenziale schillaci di ogni competizione Raspadori è secondo me la chiave di ogni competizione perché c'ha una grandissima voglia, c'ha una voglia di rivalsa non gioca tanto, ha questo atteggiamento comunque propositivo, voglioso Raspadori mi piace tantissimo vero, non ha il fisico due roll di Scamacca, vero Scamacca comunque dal punto di vista fisico ha un senso schierarlo con i due attaccanti laterali che possono essere, mi avviso, non Pellegrini fuori ruolo, Pellegrini sbagliatissimo no, doveva mettere le Sharabi per me però secondo me in questa partita fa giocare Raspadori sbagli i cambi ma sbagli anche gli uomini in questa partita avrei messo come prima punta sinceramente non lo so beh, Zaccagni ragazzi, Zaccagni avete visto quanto è forte avrei messo, per quanto riguarda Chiesa anche io avrei messo, ho giocato malissimo Chiesa mi rendo conto però che l'occasione gliela devi dare perché comunque non ci si può aspettare che giochi così male perché Chiesa per me è fortissimo questa partita ha fatto schifo sinceramente, questa partita Chiesa nullo io avrei messo come prima punta non lo so chiaramente sto parlando di stiamo parlando dell'Italia, giusto? o sbaglio? sto sbagliando? quindi io parlo di giocatori italiani quindi come prima punta potete mettere Pavoletti non so se è convocato comunque Oscar Maco pure chi sinceramente perché El Sharawi comunque non è la prima punta chi c'è di sostituto come prima punta? non so nemmeno chi ci sia effettivamente abbiamo una carenza di prima punta poteva convocare in effetti Luca detto ciò io avrei messo El Sharawi Zaccagni no avrei messo Zaccagni El Sharawi e Raspadori sinceramente nel tre persone davanti chiaramente non so chi prima punta chi centrale forse perché non provare un giocatore comunque molto morbido come prima punta? perché non provare uno Zaccagni prima punta un El Sharawi prima punta lo fa giocare cioè parte da più indietro e poi va perché c'è questa storia che la prima punta deve essere una boa ferma, fissa o comunque un giocatore che tocca meno parole perché non può essere una sorta di attaccante mobile laterale ma centrale io avrei messo El Sharawi Raspadori e Zaccagni ma non è tanto questione di ecco il senno di poi faccio così non è quello perché Spalletti lo sa meglio di me tutti noi che la Spagna era una squadra di questo tipo con un William Junior come si chiama William Junior che per fortuna in realtà è calato dopo il primo quarto d'ora ma comunque la Spagna è fortissima in cui Morata che è quello più esaltato in un senso è quello più scarso cioè la Spagna ci ha ripeto ci ha fatto il culo qualcuno dice che ci ha scopato è vero nonostante poi non sia venuta perché alla fine l'autogono non è solo la roba Calafiori Calafiori è un giocatore fortissimo è un giocatore quasi sprecato per questa Italia quindi appunto come dice giustamente Stefano Ferrero sono d'accordissimo nessuno tocchi Calafiori che non c'entra nulla no ha sbagliato Spalletti ha sbagliato negli uomini gli scammacchi ha atteggiamento sbagliatissimo passeremo il turno ma questa non è una squadra che vince la competizione poi detto questo tutti questi riscaldosi in realtà potrebbero avere molto poco senso perché stiamo parlando di una competizione veloce una competizione comunque da partite secche nella quale effettivamente basta cambiare forse l'atteggiamento e trovare una partita nella quale nonostante il valore dell'avversione più forte riesce comunque a sfangarla non è una competizione lunga non è campionato quindi in realtà l'Italia potenzialmente potrebbe anche vincere gli europei adesso lo sto dicendo che non li vinci cioè non stiamo parlando del campionato ecco fosse un campionato direi ok l'Italia non vince non arriva prima essendo però una competizione così breve può essere tutto comunque effettivamente si sono parole queste abbastanza vane secondo me Spalletti lo sa quello che ho detto che è così sa benissimo che Scamacca basta cioè o Scamacca gli stanno svegliati oppure basta al netto di tutto io non accetto un giocatore che entra in campo così scazzato poi se entra in campo scazzato e fa quello va benissimo ma secondo me questa sua emotività questo suo scazzo che io percepisco magari mi sbaglio ma percepisco questo perché io percepisco più queste cose che non altre si riverbera sulla prestazione poi ripeto ieri in realtà forse la prima punta era il ruolo che era più svantaggiato dagli sbagli messi in campo da Spalletti nell'Italia anche a livello di uomini però io la penso così Frattesi per me fuori ruolo Pellegrini per me non dovrebbe giocare ripeto per me dovrebbe giocare Zaccagni Raspadori lo utilizzerei quasi come Jolly da mettere alla fine ma non così troppo tardi Bellanovi sinceramente non inserirei cioè Bellanovi ma non chiaramente perché del Toro a parte che forse Bellanovi secondo me nella sua più che ignoranza nel suo cautismo mettiamola così potrebbe essere utile nella seconda parte della partita l'avrei inserito poi secondo me è assurdo non mettere in campo cioè secondo me in Italia di giocatori che sono cioè dovrebbero stare in campo io non capisco perché Cristante Frattesi Frattesi è fuori ruolo io Darmian non posso vederlo in panchina Bellanova posso vederlo in panchina ma per me è il classico giocatore che deve entrare la seconda parte del tempo Raspadoni non ha senso che non venga sfruttato e il Sharawi e il Sharawi per me è uno dei giocatori più sottovalutati d'Italia è relativamente vecchio tutto quanto ma mettimelo in campo cazzo cioè toglimi Scamacca e basta a me non piace la fissità delle idee dell'allenatore poi detto questo magari ragazzi magari Spalletti ha ragione utilizzando sempre questa formazione a partire dalla Croazia con questo blocco diciamo più formato di titolare che hanno più una magma e forse sono più forti di quello che ho detto può anche essere anche se non si è visto può darsi che in Italia in realtà venga tutto quanto può anche essere la mia è un parola abbastanza vacua frutto di una di una percezione della mia percezione la percezione di chi? la percezione di dare che sono io credo il miglior la miglior persona al mondo proprio